Ho deciso di fare questo video perché non so se youtube se lo prenderà oppure no però voglio rispondere a quelle domande che non ho mai risposto nella mia vita e penso che questo video se riuscirò lo terrò se no lo butterò nel senso che si autodistruggerà entro 24 ore e volevo rispondere appunto delle domande che mi avete fatto e quindi ho deciso di fare questo video vedere se funziona hanno fatto molti youtuber famosi ma io non sono famosa ho detto proviamo allora sì ho avuto il covid ecco perché faccio questo video sì ho avuto il covid a novembre perché ne ho fatto un video se riuscirò ve lo lascio qua sotto ho fatto un video dove dicevo la mia esperienza del perché non sono potuta uscire di casa del 2020 e perché praticamente mia sorella ha risultato positiva praticamente prima della vigilia di natale caduto a pennello io cosa ho fatto non volevo aspettare di fare molecolare perché non mi avevano fatto fare qui dovevo avere una motivazione giusta e non volevo essere sicuro di non essermelo preso così ho fatto il sireologico che ha rivelato che io avevo la molecola all'interno del mio corpo che ho il virus insomma però non si sapeva se era vecchio o se era nuovo ovvero quello che poteva essermi presa mia sorella perché ripeto abbiamo bevuto della stessa bottiglia siamo stati insieme parecchio tempo quindi ho dovuto essere benissimo positiva per colpa di mia sorella invece poi dal malecolare è uscito fuori che non era vero c'era negativa e quindi di per sé ho avuto già il covid a novembre quando era stata molto molto male ma ho fatto il tampone troppo tardi infatti ho fatto dopo una decina di giorni mi sono negativizzata subito quindi sì ho avuto il covid no non ho avuto grandi problemi ho avuto solo una brutta influenza non ho perso né olfatto né gusti erano un po' distorti ma li sentivo abbastanza bene sì ho avuto raffreddore l'influenza male ossa però a parte tre giorni di febbre non c'era nulla che indicasse che io potevo avere il covid fine altre cose che ma a parte questo diciamo che volevo fare questo video farò molto breve solo per dirvi che molte volte mi chiedete delle cose che magari oggi ho fatto video ma non me non me le faccio una colpa ovviamente magari potete essere persone nuove come magari non avete visto il video e si io pesavo 140 kg per chi non lo sapesse me lo chiedete spesso no non faccio video su dove mangio o sul cibo in particolare faccio i mukbang quelle cose là però non faccio video come ad esempio sm rating sound perché ho problemi proprio a mangiare in pubblico è una cosa che mi rimasta e anche in video cioè mi nervosisce mangiare se qualcuno mi fissa e quindi magari mi capita che bevo il caffè o queste cose qua proprio a livello di mangiare mi dà fastidio cioè se devo fare un video con calma non è un problema però a volte mi dà fastidio non riesco proprio infatti lì teen sound non li faccio quasi mai continuo a stare su youtube anche se nonostante abbia poche visual e gli iscritti mi calino sì perché tanto faccio robbie non preguadagno sì mi piacerebbe comunque guadagnare ma non ovviamente so che tanto non guadagnerò i miliardi quindi sto su youtube perché mi piace alla fine poi se un giorno monetizzerò secondo me è più un fatto personale che è un fatto a livello monetario perché comunque come lavoro non è quello che io voglio quindi non mi preme il fatto che ci arriva la monetizzazione bene tanto quattro spicci prendo non è che mi posso mantenere con youtube però sono contenta così sì ho avuto solo due ragazze nella mia vita che molti mi hanno chiesto mai ho avuto solo due storie sì e sono contenta così sono abbastanza contenta di aver avuto solo due uomini nella mia vita cioè di storie serie nel senso che sono uscita con altri uomini ma di storie serie ne posso contare solo due sono contenta così perché sono una persona abbastanza che mi leggo facilmente cioè non è che mi leggo facilmente sono una persona che quando mi leggo sto con una persona per tanti anni finché ovviamente non c'è un motivo legittimo per chiudere la storia non sono una persona abbastanza frivola non per mancare di rispetto a chi magari ha avuto più storie però non sono di quelle persone che appena si lascia va subito con un altro o magari butta una storia nel cesso tra virgolette passa da un ragazzo all'altro cos'è il suo tipo sono una persona che si lega abbastanza facilmente anche se fosse troppo nel senso che quando mi leggo con una persona ci sto tanto tempo insieme magari col mio ex ti piuttosto anche di meno però è una cosa soggettivo cioè sono contenta di come sono per il resto è un video che volevo fare più che altro per rispondere a alcune domande non dico scomode ma che non secondo me potevo rispondere in pochi 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 minuti no non sono rossa naturale ci mancherebbe avete visto mi faccio la tinta una domanda stupida che mi hanno fatto non sono rossa naturale anche se mi tengo il sopracciglia che stanno tornando a essere castane e niente io comunque ripeto sono contenta di stare su youtube a dispetto di tutto anche se molti mettono il dislike molti mi criticano magari su quello che porto magari sul fatto che mi dicono ma me non è tante visual tutto io sono dell'opinione ragazzi che per me conta fare una cosa perché mi piace farla poi se sono solo 30 persone guardami un video e se lo guardano tutto mi commentano decentemente sono contenta così non mi interessa avere diecimila visualizzazioni o mille visualizzazioni se il video non me lo caga nessuno a me conta la qualità non la quantità in tutte le cose anche della vita e come gli amici per riscoprire pochi amici ma buoni che avevano tanti che non mi servono un cazzo c'è tanti per le falsi è un po di un po in tutte le cose penso che il video sia terminato qui non ho più niente da dire e noi ha un'altra domanda che mi hanno fatto no non mi chiamo red princess per fammi la figa o perché vuoi sentirmi la principessa ma semplicemente perché red princess come molti non sanno è nato dall'unione del significato del mio nome che sarà 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 e significa principessa e red perché un colore che mi rappresenta come potete vedere fine non se non mi non mi chiamavano red queen se volevo fammi la figa o che ne so queen super queen number one non so come cazzo potevo chiamarmi però il nome non è nato perché volevo farmi la figa come molti hanno detto vuole farsi la principessa se non mi chiamano reggina non vuole chiamarmi la reggina delle stronze o la reggina di youtube ma sinceramente mi sono chiamata così perché era il significato il mio nome sarà era un po dopo banale che ci sono 4.000 sa 400 milioni di sare su youtube e quindi ho potuto avere un nome un po più artistico ce l'ho anche sul muro perché mi piace la parola princess ma non per il concetto di principessa che se ne ha fotte e perché il mio nome te lo adotto cambia sempre sarà e significa principessa tutto qua non perché mi sento una principessa anzi era solo perché giocando con i nomi è uscito fuori quello a diritto vero avevo anche altre categorie cioè avevo red princess, red passion e l'altra non mi ricordo manco più qual'era solo che red passion mi sento un nome di un cocktail o di una porno star quindi non l'ho mai più usato ha vinto poi nel sondaggio red princess e ho spiegato anche le motivazioni e piacevano a tutti ecco perché mi chiamo red princess e non perché mi voglio far la figa anche perché non è il mio genere di stile poi magari posso sembrarlo perché magari siamo un po' stronza un po' così però non è la cosa che voglio fare se volessi fammi la figa mi vestirei come una zoccolamente faccio i video con qualcosa che il trucco addosso cosa che non faccio ecco perché sinceramente non mi sento di fammi la figa anche perché fammi la figa struccata in pigiama ma non penso che riesca molto bene niente io spero che questo vi sia piaciuto e niente finisco qua sono tutte le domande più stupide che mi hanno non è che sono stupida sono domande che mi hanno fatto varie volte e ho voluto rispondere in questo video qua vi saluto questo non dura abbastanza tanto poi vedrò se toglierlo o meno vediamo un po' ma comunque penso che poi lo toglierò non so se youtube se lo prenderà perché con la parola covid sicuro se lo prenderà e quindi penso che poi lo cancellerò oppure lo metterò privato non lo so vediamo un po' io vi saluto ci vediamo in un prossimo video ciao